No ragazzi, io non ce la faccio più. Improvvisare così mi uccide. Lo so, ma cerca di resistere. Il compenso non è niente male. Ma chi ha deciso i ruoli? Io sono magrissima, non sono credibile come partoriente. Lo vedi? Questi non sanno niente di teatro. Sì, anche me sembrano un po' strani, però abbiamo firmato un contratto e dobbiamo andare avanti. No, aspetta, non puoi entrare. Non sento ragioni, quel sunset mi deve dare una spiegazione. Io lo so, ma quella signora sta mettendo al mondo il tuo figlio. E allora, lo stato di mia madre non è serio. Ha bisogno di un trappianto, mi deve dire tutto. Che caldo che fa? Io me lo tolgo. Che succede qui? Che bambini. Che bambini. Che bambini. Che bambini. Che bambini. con i telefilm di Boeing finisce qui